Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Valenza, benvenuti in un nuovo video. Oggi proviamo Tesla Model Y sul banco e vediamo che potenza riesce a sviluppare. Allora ragazzi, la macchina è quasi pronta, qui sopra il banco, c'è un po' di casino in officina chiaramente perché non siamo gli unici a fare le prove e comunque adesso vediamo come si comporta perché sono veramente molto curioso. Tesla Model Y Performance, l'unica in Italia, non potevo farmi scappare l'occasione di provarla sul banco e magari mettendola a confronto anche con altre auto. Siamo oggi alla Carburatori Bergamo che è la più grande autofficina di test e di banco e di rimappatura delle centraline e tra l'altro mi hanno detto che si possono rimappare anche le auto elettriche, cosa veramente molto interessante. La settimana scorsa ad esempio hanno rimappato una e-tron, quindi una Audi e-tron e gli hanno dato un sacco di cavalli in più ed hanno anche migliorato l'erogazione della potenza togliendo praticamente il lag iniziale che c'è in accelerazione. Il suo proprietario è rimasto molto contento, mi piacerebbe capire insieme che cosa si può fare su una Tesla. Voi che ne dite? Approfitto! Ora il ragazzo sta smontando una copertura perché non ha gli agganci per poter fissare l'auto. Ci sono due coperture, chiamiamole i carter in plastica, a sinistra e a destra. Adesso li rimuove e leghiamo i carter in plastica. Raga, siamo pronti! Allora sul 5.50, la scala buona, vai, vai! E se riuscirà completato, perfetto! Ragazzi posso dirvi che da una prima analisi abbiamo circa 480 cavalli con una coppia di 900 newton metro o una cosa del genere comunque adesso vi spieghiamo esattamente tutti i dati c'è per avere una coppia del genere bisogna salire di prezzo ma tanto 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 quanti newton? 979 newton metro bene ciao marino i carburatori bergamo ragazzi i più grandi in assoluto e i primi in europa a provare una model y quindi tesla model y sui rulli e tu mi hai detto che è impressionante varola giusta mi associo impressionante perché qualche bella macchinina con coppia analogo mi sono trovato a rullarla come immagini come sai ma quello che fa impressione è come quella macchina qua li eroga e ci sono anche dei valori veramente incredibili incredibili guarda abbiamo preso vabbè dopo la farai vedere certo faccio vedere la gravi vedere tu bene la prova potenza della tesla è una vettura con l'analoga coppia e poi stiamo parlando non di una baracca ma di una né di una ng gt4 quindi proprio una bestia preparata oltretutto che parte dalla serie di dei 700 di 612 cavalli e 7 e 800 e rotti newton metro di coppia e preparata siamo andati a 705 e 952 dall'analisi delle due prove quello che fa impressione comunque al di là appunto del grafico che si capisce subito si vede subito proprio dell'impennata e abbiamo che tesla i 979 newton metro di coppia che già di per sé ha un valore a dir poco impressionante li sviluppa praticamente on off si deve dire che un secondo e mezzo per dire tanto dopo che ho messo a tavoletta l'acceleratore ce li ho tutti per poi chiaramente a un certo numero di giri cominciare un po' a plafonare e uscire di potenza la ng invece fa quasi il polo opposto deve avere un turbo lag un'attesa e la prova potenza testimonia che i suoi 957 newton metro lei li sviluppa a 4300 giri quindi diciamo già a metà regimi sono impressionanti per poi chiaramente crollare decisamente di meno abbiamo un picco immediato sull'elettrico che ha la sua forza e un picco invece molto più spostato in avanti sul benzina sul turbo benzina che poi chiaramente ha la forza di star dentro di più per ovvi motivi anche perché chiaramente fa molti più giri anche se i giri su un elettrico sono un valore effimero che contano fino a un certo punto l'altro valore che fa impressione mentre una 4 vd su un banco allacciato eccetera arriva a disperdere una potenza enorme nell'orbita dei 100 e passa cavalli su questo genere di potenze parlo della ng quello che tesla fa di incredibile è che ne disperde 54 per farti per farti capire una 500 per farvi capire una 500 abart rullata su un solo asse anteriore quindi con una dissipata misurata più bassa ne disperde 35 30 35 questa che è una 4 vd mettiamola come volete soli 54 e questa è la forza di non avere organi meccanici di mezzo che vanno a portare via chiaramente la cinghia la trasmissione misura gomme l'albero di trasmissione il climatizzatore qualsiasi cosa che determina la dissipata stavamo dicendo prima la dissipata praticamente è la differenza che c'è fra la potenza che sviluppa il motore e quella che poi in realtà scarica rubata passatemi il termine da tutti questi fattori che abbiamo appena elencati elencato vengono scaricate per terra quindi veramente molto interessante folle folle la mia parola è stato gustoso veramente ottimo bello bello grande soddisfazione bello poi magari tornerò con la mia model 3 ok che dovrebbe essere più potente ancora tanto di guadagnato quindi vediamo cosa noi come sai di banchi ne abbiamo quattro tre sono ma uno può tollerare fino a 600 cavalli per asse uno fino a 900 cavalli per asse quello nuovo che abbiamo messo fino a 1500 cavalli per asse quindi in tal senso non abbiamo problemi di tenuta ti dovrei portare una rimac allora esatto da provare veramente veramente impressionante fra l'altro la cosa che mi dicevate che fa ancora più impressione quanto si avvicina al dichiarato perché non c'è un dichiarato vero e proprio però lo stimato 480 è tradotto in 478 di cui ti ripeto gli impressionanti 411 alla ruota e quella è veramente una cosa che che impressione vabbè che poi è tradotto quello non te lo insegno io in prestazioni perché penso che da fermo sì sì come scatti ma faccia faccia piangere tanti sì 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 ne ho sverniciate tante dire la verità immagino o grazie mille o gentilissimo grazie a te grazie a voi grazie anche a tesla perché mi sono divertito davvero tanto grande ciao tutti ciao ebbene ragazzi per oggi è tutto ovviamente entrambi i grafici li trovate allegati nella descrizione del video così potete fare anche voi le vostre considerazioni comunque vi ho fatto già vedere le grafiche nel video e tesla model y ragazzi dovrebbe essere un'auto per le famiglie per le famiglie 979 newton metri di coppia cioè mi viene da ridere ragazzi mi viene da ridere e mi piacerebbe anche vedere tesla model 3 qui sopra magari ci facciamo una puntata insieme a loro che hanno anche un canale tv quindi dai 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 nascerà una bella collaborazione grazie mille carburatori bergamo grazie a voi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video stay tuned ciao 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 ciao